per me attitude è saper ascoltare gli altri facendo l'attrice spesso sono io al centro dell'attenzione con i personaggi che interpreto e invece nella mia vita mi piace dare importanza che ho davanti attitude per me è colore attitude per me è carattere movimento espressività mi piace viaggiare da quando ero piccola e sono mezza greca quindi forse è per questo che spostandomi tra l'Italia e la Grecia mi piace di trovare dei nuovi paesaggi, dei nuovi popoli non lo so, mi piace molto vedere e sentire tutte le persone che vengono da tutte le realtà potrei mettermi a parlare anche in greco ma così farai un sogno, cioè sì, che non c'è, ma mi si è l'unida che mi si è l'italia per me attitude è determinazione, forza e femminilità per me attitude è versatilità, stupore ed energia benvenuti nella nuova collezione di Twinset, attitude, qual è la mia attitude, la mia attitudine? secondo me l'ironia, la gentilezza, la cattività e... niente, basta in che senso? edward, qua ok, comunque è freddo, è vero, cioè lo facevo... è un po' rigido mi attitudine è creatività mi attitudine è creatività mi attitudine è creatività mi attitudine è creatività mi attitudine è creatività